ahahahahah 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 porcellini di india e cosa siamo noi ahahahahahahah ahahahahah ahahahahahahah ahahahahahahah oh oh no lo potevo ahahah ahahah ahahahahah ma è tutto io non fai la stessa cosa di prima beh se non mi spingono magari questa merdina qui oddio son terzo ma la pazzacola dai nicco prendi quel bastardo prendilo di nuovo prendilo mangiatelo oh no nicco attento oddio questo ne volavo via eh ma com'è possibile ma no nicco ora lo pigliamo eh bisogna scusa no Giorgio scusa scusa la sensazione è che finirò la gara quarta tu credi io ho quattordicesimo ahahahahah ahahahahah almeno non un sedicesimo almeno quei vabbè sono quindici in totale c'è un sedici no davvero quindi è uscito uno allora no non è possibile è uscito uno io sono un monticidio e questo è io sono ancora per ultimo tutto sta appellato sopra la mappa è sotto la mappa ma dice l'ammesso ah ok vai nicco piglielo piglielo di buono piglielo the crew insegna insegna a non frenare nelle curve esatto c'è stato piano da bimbor da chi? da bimbor 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 eh io proprio adesso mi ribatto però ok non sono ribattato il culo al pelo al pelo dico dico cristo e qui c'è stata la mia bravura eh 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 ora ora nicco qua devi andare veloce perchè io qua vado veloce oh qui c'è la cazzata per lo uccidio a vedere no Giorgio lo so lo so lo so chi vincerà? sì 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 no dai Nico oh dai che palle donna avrei vinto io ma sai com'è qualcuno è bastardo qua voglio vedere dov'è Pietro aspetta Giorgio perchè non si sa chi è che è arrivato primo però eh te te Dio buono l'ho visto io con i miei occhi sì sì cazzo sta facendo quest'altro madonna l'abbiamo inculato quello lì però Nico muoia abbiamo fatti il panino il panino gli abbiamo fatto dove va doveva...? ah vai a Lattotrenni è Pietro q? Quanto? Tu non hai fatto quanto? Quanto spacco? Quanto?